in questo video vediamo l'utilizzo di un applicatore di etichette da tavolo per doppia etichetta vuol dire che può applicare sia la singola etichetta su superfici cilindrici o anche la doppia etichetta per impostare la doppia etichetta tramite il pannellino imposterò la dimensione etichetta il gap e la distanza tra la prima e la seconda etichetta adesso già abbiamo fatto le impostazioni andiamo ad applicare le etichette abbiamo le guide fissiamo questo in funzione alla grandezza del barattolo o bottiglia e andiamo a vedere l'applicazione può avvenire o tramite il pulsante star o tramite il pedale abbiamo l'applicazione prima e lui parte con la seconda come vedete ho applicato correttamente due etichette con la stessa importazione andiamo a vedere adesso l'applicazione sul barattolo devo modificare le guide vedete com'è semplice metto il barattolo premo il tasto e lui in automatico applica la doppia etichetta ricordo è possibile modificare anche la distanza tra una etichetta e l'altra il vantaggio dell'applicatore qual è che mettendo un etichetta direttamente su una confezione diciamo cilindrica l'etichetta viene applicata correttamente come sempre alla stessa posizione e senza nessuna grinza così avete un risultato ottimo quindi se vi occorre un applicatore di etichette singolo doppia etichetta potete contattarci ai nostri riferimenti